Benvenuti all'edizione della sera di Calabria News 24 informa. In apertura la cronaca resti su richiesta della DDA di Catanzaro che ha scovato un presunto comitato d'affari verso i fondi europei, tra i fermati anche diversi esponenti della politica calabrese. Minacce e distorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, peculato, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Sono queste le accuse che pendono sulla testa di nove persone per le quali il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, il Rosso e il Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in calcere e messa su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Si tratta indistintamente di esponenti politici, imprenditori e amministratori pubblici della regione Calabria, oltre a due soggetti contigui alla cosca Mancuso di Limbati. Fra questi spicca il nome di Nazareno Salerno, consigliere regionale, eletto tra le file di Forza Italia che nella scorsa consigliatura ha anche ricoperto il ruolo di assessore regionale al lavoro. Arrestato a Verona dove si era trasferito malgrado l'incarico politico per seguire alcuni lavori nella sua veste privata di imprenditore del settore delle costruzioni. E di Pasqualino Ruperto, ex presidente di Calabria Etica, società in house della regione Calabria e attualmente consigliere comunale alla mezzia terme in quanto candidato a sindaco non eletto. Le accuse riguardano il ruolo degli arrestati nel dirottare dei fondi della comunità europea e diretti al sostegno economico dei nuclei familiari in difficoltà del progetto regionale Credito Sociale, indirizzandoli su conti correnti di società private, anche all'estero. Su tutte queste operazioni eleggiava anche la lunga mano della cosca di Limbadio dei Mancuso, di cui l'arresto di due esponenti dell'Andrangheta. Tra gli arrestati risultano anche Vincenzo Caserta, ex direttore del Dipartimento Politico e Sociale della regione Calabria, Claudio Isola, già componente della struttura speciale dell'assessorato regionale al lavoro, Orstenzio Marano, responsabile della sede di Belmonte Calabro della Copperfin, l'impiegato di Equitalia di Vibo Valenza Vincenzo Spasari, l'imprenditore vibonese Gianfranco Ferrante, Giuseppe Avoglio Castelli e Bruno Della Motta. Sempre per la cronaca, andiamo a Cosenza dove i carabinieri hanno messo a fine un'importante rete di attività di spaccio. 35 provvedimenti cautelari, 10 in carcere, 16 agli arresti domiciliari e 9 obblighi di dimora sono stati seguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, supportati allo squadrone l'importato cacciatore di Calabria, dal nucleo Cinofili e dal nucleo elicotteri di Vibo Valenza. L'accusa a vario titolo parla di detenzione spaccio e sostanze stupefacenti, furto, estorsione, detenzione di armi e usura. Le indagini sono partite dalla denuncia di una madre disperata che vedendo il figlio, piccolo spacciatore, minacciato dal suo fornitore per non aver pagato le partite di droga ricevute, si è rivolta ai carabinieri ai quali ha denunciato tutto. Subito sono scattate le indagini che hanno permesso di individuare una serie di gruppi di pusher che si erano spartiti le piazze di spaccio del capologo Cosentino, 700 circa gli episodi documentati. Per alcuni anche l'accusa di estorsione per aver minacciato e picchiato dei pusher che non avevano pagato le partite di droga smerciate. debiti che hanno costretto alcuni pusher a diventare anche ladri seriali specializzati in furti su autovetture. Nell'ambito della conferenza stampa seguita all'operazione dei carabinieri, il procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini, parla di allarme sociale. Il procuratore aggiunto di Cosenza, la dottoressa Marisa Manzini, sempre nell'ambito dell'operazione odierna eseguita dai carabinieri della città Abruzzia, ha parlato di un vero e proprio allarme sociale, sottolineando la giovane età di molti arrestati tra assuntori e spacciatori, segnale che dovrebbe far preoccupare le istituzioni preposte a partire proprio dalla scuola. Guardi, l'attività investigativa dimostra intanto una diffusione eccessiva della sostanza stupefacente e di ogni genere di sostanza stupefacente, perché qua non siamo fermi soltanto agli stupefacenti leggeri, ma abbiamo spaccio di eroina e di cocaina. Spaccio che interessa un numero troppo elevato, direi, di ragazzi che sono nati a metà degli anni 90, noi abbiamo uno di questi anni 97, quindi forse non ha neppure compiuto 20 anni. Questo ci deve fare riflettere, perché presumibilmente quelli che sono gli enti che dovrebbero in qualche modo essere molto più attenti alla situazione giovanile del territorio, non lo sono a sufficienza. Non intendo ovviamente accusare nessuno, però la scuola, che è uno degli enti più rilevanti, più importanti, probabilmente dovrà riflettere sulla necessità di soffermarsi con i ragazzi in quelli che sono gli aspetti più difficili di questa generazione collocata in un periodo storico molto particolare. Questo intendevo dire, noi entriamo in gioco, noi la polizia giudiziaria come organi repressivi entriamo in gioco quando i reati sono stati commessi. Questo significa, peraltro, lo spaccio di droga ha una rilevanza importantissima nel territorio, perché, come dicevo, per poter assumere droga e per poter garantirsi quella necessità che poi diventa tale, quella dipendenza, bisogna spacciare a propria volta, procurarsi denaro attraverso furti nelle abitazioni, furti negli istituti pubblici, rapine e così via. E questo territorio, purtroppo, lo sapete meglio di me, sono quotidianamente interessato da questo fenomeno. Continuiamo con la cronaca. Manette scattate stamattina anche nei confronti di Walter Gianluca Marsico, esponente del clan di Ettore Lanzino. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dai colleghi dello squadrone riportato cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione messo il 21 aprile 2016 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro nei confronti di Walter Gianluca Marsico, poiché è definitivamente condannato alla pena principale di 30 anni di reclusione nell'ambito dell'indagine Terminator 4 a seguito della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro emessa il 25 settembre del 2014. Il Marsico è stato definitivamente condannato, tra l'altro, oltre che per l'omicidio aggravato dal metodo mafioso nei confronti di Vittorio Marchio, per porto e detenzione abusiva di armi aggravati dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e un'altra usura aggravata sempre per lo stesso motivo. Anche per associazione mafiosa in ordine la sua partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso diretta da Ettore Lanzino, di cui è stato riconosciuto organizzatore e reggente Francesco Patitucci, attualmente in carcere. A Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, protestano i cittadini esasperati per la carenza idrica che si protrae da diverso tempo. E ancora protesta a Bagnara Calabra ed ancora una volta è l'acqua a muovere un utrito gruppo di persone di Marinella che stamane si sono recate al Comune per evidenziare una situazione non più sostenibile. Manca l'acqua ed il disservizio dura ormai da tempo. Anche gestire le normali attività quotidiane è diventato quasi impossibile e a pagarne le maggiori conseguenze sono donne, anziane e bambini. Per questo soprattutto le donne stamane si sono fatte sentire in maniera forte e chiara. Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno abilmente controllato la situazione anche se non sono mancati momenti di tensione in attesa che arrivasse la triade commissariale. Ed è alla dottoressa Franca Tancredi che si sono rivolti i numerosi cittadini, accorato all'appello con la richiesta di trovare una soluzione definitiva al problema. Ed i primi provvedimenti non si sono fatti attendere con l'attivazione di un pozzo fermo a causa di una pompa guasta e adesso funzionante l'invio a Marinella di un autobotte dei vigili del fuoco per le prime necessità, anche se non molti hanno poi usufruito del servizio, tanto da consigliarne lo spostamento a Solano. Altra strada che si tinterà di percorrere è la riattivazione, previa verifiche igienico-sanitaria, di alcuni pozzi fermi da tempo per tentare di sopperire alla carenza d'acqua, soprattutto a Marinella. Inoltre, come riferito dalla Tancredi, dopo aver raschiato il fondo del barile, si sono trovati i fondi per intervenire sul gaziano e riattivare le vecchie sorgive. Non è certamente la soluzione definitiva, ma in attesa di provvedimenti strutturari e risolutivi, le azioni messe in campo serviranno per garantire l'acqua per più ore possibile nell'arco della giornata. Già si sta intervenendo sul pozzo e i nostri uffici sono stati pregati di un ufficio tecnico di seguire, di seguire i lavori fino a quando non è per un problema. Contemporaneamente ancora, il problema è molto più ampio di quello che possa apparire e la signora, appunto, si interverrà più a molte. Abbiamo raschiato il fondo del barile, ma siamo riusciti a trovare quelle migliaia di euro e ci consentiranno di intervenire. Nasce a Reggio Calabria la città metropolitana. Nasce la città metropolitana di Reggio Calabria, davanti al prefetto Michele Di Bari, il passaggio delle consegne tra il presidente della provincia Giuseppe Raffa e il sindaco Giuseppe Falcomatà. Quella di Reggio è l'ultima delle 14 città metropolitane ad essere istituita. È stata un'esperienza straordinaria, positiva, devo dire, che ha lasciato secondo noi un'impronta anche importante su tutto il territorio. Naturalmente lasciamo un ente sano, come abbiamo avuto modo più volte di dire. Un ente che ha saputo superare le criticità legate alla mancanza di trasferimenti da parte dello Stato, ma ha saputo soprattutto guardare all'interesse collettivo come primo punto. Per noi è un orgoglio poter essere testimoni di questo momento importante per il nostro territorio. La città metropolitana è una bella sfida che bisogna saper correre e che bisogna saper anche interpretare. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni affinché questo Consiglio metropolitano, il sindaco Falcomatà e tutta l'amministrazione possa cogliere queste sfide. Noi saremo comunque protagonisti nel stimolare, nel condividere e anche nel plaudire quando le cose sono fatte secondo quelle che sono le nostre visioni. e saremo comunque su territorio a interpretare e a capire i bisogni ancora dei nostri cittadini. Oggi nasce formalmente la città metropolitana. Io ringrazio il prefetto per aver voluto che questo scambio di consegne avvenisse all'interno della prefettura. È un gesto oltre che istituzionale dall'alto valore simbolico. Ringrazio il presidente Raffa per questi anni, per l'ente che ci lascia, perché credo che abbia interpretato il ruolo di presidente della provincia ben al di là di quelli che sono i compiti istituzionali, le funzioni istituzionali che spettano a chi rappresenta un ente locale. E lo ha fatto interpretando, cercando di essere anche fisicamente vicino a quelli che sono stati tutti i sogni, i bisogni e le esigenze della comunità provinciale che ha amministrato fino a questo momento. Oggi nasce un ente nuovo, nasce una città di città. che si fonda su quello che è il ruolo dei sindaci nei 97 comuni che fanno parte della città metropolitana, che si fonda su quello che è il ruolo degli amministratori locali oggi, primo front office di tutte le istanze del territorio, questo deve essere trasformato in energia positiva, in energia locale, questo deve essere trasformato in strumento di programmazione. E ora ci spostiamo a Vibo Valencia, dove non è stato ancora risolto il problema legato ai rifiuti. Non c'è dubbio che la questione della raccolta dei rifiuti rappresenti per la città di Vibo Valencia un problema non ancora del tutto risolto, ma soprattutto una faccenda che mantiene alto il livello della polemica, sia da un punto di vista amministrativo che politico. In realtà la questione è più complessa e tocca direttamente il senso civico della cittadinanza che sembra essere stato accantonato ormai da tempo. Basta farsi un giro per le vie del centro, senza andare necessariamente nelle ben note periferie. Le immagini che vediamo mostrano infatti la presenza di vere e proprie discariche, cielo aperto dove chiunque si sente autorizzato a buttare di tutto, con un grave senso di menefreghismo, di assoluta mancanza di rispetto, di totale inciviltà. Qui, ad esempio, siamo in una traversa a meno di 100 metri dal Duomo della città. Accanto ai cassonetti, in ordine, questa masnada di incivili ha lasciato di tutto, materassi e frigoriferi, mobili insieme ad altri ingombranti, con sullo sfondo il parco archeologico che presto dovrebbe essere aperto, in un atroce contrasto tra la gloriosa civiltà passata magno-greca e romana e l'attuale scandalosa inciviltà. Che una simile rozzezza sia strettamente collegata ad un dato culturale lo conferma paradossalmente quest'altra discarica di rifiuti a qualche centinaio di metri dal liceo scientifico. Non c'è dubbio che i vibonesi siano molto impegnati nel rinnovare elettrodomestici e materassi. Lo dimostra l'inattesa quantità di questi rifiuti che troviamo sparsi un po' ovunque, fin anche a pochi metri dalla scuola di polizia, quasi fosse una sfida alle autorità e voler abbandonare questi ingombranti nell'indifferenza generale. Una città non più amata da chi ci vive e che subisce l'onta di offese costanti tra non curanti, vandali ed incivili. Che presente crudele per Vibo Valencia. Bene, rientriamo in studio dove nel frattempo ci ha raggiunti il neoeletto presidente della provincia di Cosenza, il presidente Franco Iacucci. Iacucci, benvenuto presidente e congratulazioni per l'incarico innanzitutto. Grazie per l'invito. Allora, siamo stati eletti di recente il 29 gennaio, il PD lo ha sostenuto in maniera forte e vivace, per cui è un risultato eccezionale sicuramente, è così? È così. È così sicuramente perché io sono soddisfatto del risultato politico che abbiamo raggiunto, che è quello di unire il PD, unire la coalizione di centrosinistra, allargare la coalizione di centrosinistra all'NCD e poi con un risultato importantissimo anche nei numeri, perché c'è stata una grande partecipazione, il 91% degli aventi diritto. Quindi siamo oltre il 90%, sicuramente è un dato politico molto interessante. Il messaggio che abbiamo cercato di mandare nel periodo della campagna elettorale, dove abbiamo girato tutti i territori, io ho raggiunto tutti i comuni della provincia di Cosenza, è un messaggio che si vede che è arrivato ai sindaci, è arrivato ai consiglieri comunali e quindi io sono soddisfatto. Presidente, lei torna a casa praticamente un po' perché lei è stato dieci anni a fianco al Presidente Oliverio in provincia. Certo, io torno a casa, è un ente che conosco bene, conosco anche chi ci lavora, conosco bene, è un ente sicuramente che è cambiato tantissimo, anche perché la legge del Rio ha penalizzato tantissimo le province. Ecco, ricordiamo quali sono attualmente le competenze e che ancora, quale importanza ha per il territorio, l'ente provinciale? Beh, l'ente provincia ha come funzioni delegate da parte della legge del Rio due funzioni importanti che sono quelle della viabilità e in una provincia come la nostra, estesissima, con 3.000 km di strade provinciali, si capisce che è un settore importante. Poi c'è quello dell'edilizia scolastica. Noi nei dieci anni di Presidenza Oliverio abbiamo investito molto nell'edilizia scolastica. Abbiamo cercato di costruire edifici sicuri, confortanti, per i ragazzi che vanno a studiare e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo continuare in quest'opera di ampliare l'offerta scolastica che è importante. Presidente, prima di chiudere, su che cosa continuerà nell'immediatezza? Qual è il suo primo obiettivo? Il mio primo obiettivo, guarda, io ci sto lavorando da qualche giorno è quello di capire perché questa provincia, come tante altre, soffre per mancanza di risorse. Quindi affrontare i problemi. Io durante la campagna elettorale non mi sono presentato con un libretto del programma perché io anche adesso non riesco a capire, lo capirò in questi giorni, ormai ci siamo, quale risposte sono possibili ai territori. Siccome noi dobbiamo parlare il linguaggio della verità ai nostri interlocutori, che in questo caso principalmente sono i sindaci, i territori e i cittadini, io voglio capire bene perché i problemi sono tanti. Andando in giro io mi sono reso conto che ci sono problemi veramente seri, e ci sono ormai comuni che non si riescono più a raggiungere con la viabilità per come ridotte. E ci sono molte strade che sono al collasso per cui sicuramente dovreste intervenire. Ce ne sono tante che sono chiuse e io non riesco, devo capire. Molti sono proprio isolati, c'è proprio l'isolamento del... Io sono stato nell'Alto Ioni, insomma, è veramente una situazione terribile. Ci sono comuni che soffrono, soffrono. Popolazioni che soffrono, studenti che devono andare a scuola, che non riescono a raggiungere gli edifici. Ci sono realtà veramente difficili, complicate. E quindi sicuramente il Presidente si muoverà come prima? Io la cosa che posso garantire qual è? La vicinanza sicuramente della provincia e del Presidente della provincia nei confronti dei sindaci e nei confronti degli enti locali, no? E allora, Presidente, noi le auguriamo buon lavoro, in bocca al lupo e ci terremo aggiornati sulle attività della provincia. Sicuramente. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie ancora al Presidente Franco Iacucci, Presidente della provincia di Cosenza e noi ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie.